A due passi dalla Minerva, Trestor Pavia Assistenza tecnica in collaborazione con 393 Voghera Servizio Re-Phone per trasferire dati dal vecchio cellulare al nuovo smartphone E con Trestor Pavia si è davvero free Persino di cambiare uno smartphone sostituendolo con l'ultimo modello presente sul mercato Vieni a saperne di più in Viale della Libertà 6B o clicca a trestorpavia.it L'avrà sentito in notizia di questi giorni, non serve aver fatto l'intervento chirurgico agli organi sessuali per chiedere il cambio di sesso all'anagrafe A stabilirlo è stata la Cassazione che ha accolto il ricorso di Rete Lenford sul caso di una persona trans che, dopo essere stata autorizzata all'operazione, aveva poi rinunciato ma pretendeva comunque il passaggio burocratico Nella sentenza la Cassazione sostiene che il desiderio di realizzare la coincidenza tra somme psiche è, anche in mancanza dell'intervento di demolizione chirurgica, il risultato di un'elaborazione sofferta e personale Secondo Francesco Belletti, presidente del forum delle associazioni familiari, la società, da sempre basata sulle differenze radicali tra uomo e donna, rischia di sfasciarsi perché la si costruisce in un sistema in cui l'identità sessuale non è più qualcosa di naturale ma è una delle tante possibili azioni dell'individuo Lei concorda con la Cassazione oppure crede che si stia esagerando un po' troppo? Quello che penso io è che condivido la motivazione della Cassazione, deriva da una scelta sofferta per le persone che devono cambiare comunque, quindi non è che uno si gira un giorno e decide di cambiare Deriva sempre da qualcosa di difficile, di sofferta e quindi è giusto così e non si può neanche obbligare le persone a sottoporsi a degli interventi chirurgici se non se la sentono ma che comunque sentono di essere nati in un corpo sbagliato Esattamente, esattamente Il senatore Giovanardi di centrodestra invece ha commentato che sembra di stare su scherzi a parte perché la Cassazione la deve smettere di sostituirsi al Parlamento Trovi che la Cassazione certe volte effettivamente si sostituisca al Parlamento? Sì o no? Questo non lo so, non ho elementi sufficienti per rispondere L'esagerazione è sempre relativa, nel senso che la scelta di ognuno è proprio personale Credo che comunque il rispetto della sessualità sia una cosa che prescinde poi dallo scegliere se appunto essere di sesso femminile o maschile Quello dovrebbe essere poi naturale, differire, poi cambiare con una semplice chirurgia Quindi il rispetto per la propria sessualità naturale, diciamo così, c'è quella della nascita? Sì, sostanzialmente sì Quindi in un qualche modo concorda con Giovanardi, senatore di centrodestra, che dice Sembra di stare su scherzi a parte e la Cassazione la deve anche smettere di sostituirsi al Parlamento Certo, poi semplificare, dire, fare battute è anche abbastanza semplice Però rispettare la sessualità di ognuno è importante Certo è che anche rispettare la natura mantenendo se stessi anche dal punto di vista organico Io concordo con la Cassazione in quanto penso che le persone debbano avere la libertà di autodeterminarsi E stabilire con libertà quello che deve essere il loro orientamento sessuale, la loro stessa sessualità E addirittura il genere E addirittura sì, il genere, senza aver bisogno di operazioni Ci sono ragazze, per esempio liceali, che a partire dai 14 anni sentono di dover cambiare sesso E intraprendono un percorso, prima psicologico, per capire se effettivamente è quello che vogliono Se cambiare sesso è quello che vogliono Perché non si sentono bene per come sono Ritengo quindi sia giustissimo Quindi è giusto che uno Stato, come l'Italia, dia loro la possibilità di sentirsi rappresentati anche dai propri documenti Quando sotto la voce sesso c'è scritto femminile invece che maschile oppure il contrario Sì, assolutamente Il senatore di centrodestra, Giovanardi, ha detto Sembra di stare su scherzi a parte, perché ha fatto anche questa battuta Aggiungendo che la Cassazione troppo spesso si va a sostituire al Parlamento Trovi che sia il Parlamento dover decidere su questo oppure no? Dunque, sì, sarebbe compito del Parlamento Però se non si fa carico di queste decisioni qualcuno dovrà pur sostituirlo Credi che il nostro Parlamento non se ne stia facendo carico? Non sto più seguendo molto la situazione politica ultimamente Però evidentemente se la Cassazione si sostituisce Significa che non se ne sta così occupando